Super Green Pass anche in zona bianca è vaccino obbligatorio per docenti e forze dell'ordine mentre il governo approva la nuova stretta al professore Angelo Antonioni e ricorda le prerogative della scuola sono l'accoglienza e l'inclusione, qualunque pass è discriminatorio Subisce minacce e violenze dal compagno ma si comincia a denunciare lo stalker alla polizia il quarantenne non potrà più avvicinarsi alla donna Pensioni e redditi in calo ma tassi in aumento l'appello della CISL al sindaco Massimo Serie a Fano la tariffa dell'acqua è la più alta della regione Alessandra Baronciani eletta alla guida di Confindustria ieri il passaggio del testimone con Mauro Papalini E a rischio il carnevale di Fano 2022 ci sono l'incertezza provocata dalla pandemia e le spese fisse molto alte la decisione verrà presa a giorno L'accensione della bette di piazza 20 Settembre darà il via sabato sera al Natale più di Fano la piazza sarà chiusa al pubblico che potrà godersi da casa l'iniziativa trasmessa in diretta su Fano TV Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla notizia Dal governo arrivano le nuove regole anti-covid e dal 15 dicembre scatta anche la vaccinazione obbligatoria per le forze dell'ordine e per il personale scolastico Nelle scorse settimane anche il preside Rossini e altri dirigenti si erano dichiarati a favore del certificato verde obbligatorio per tutti gli alunni ma la scuola, ricorda oggi il professore Angelo Antonioni è un luogo di accoglienza e inclusione qualunque pass è discriminatorio In contrasto con le informazioni che ci arrivano sia direttamente che dai media sui danni che provocano i vaccini anti-covid ci stupisce vedere l'accanimento con cui alcuni presidi degli istituti pesaresi chiedono di rendere obbligatorio il Green Pass anche per i loro studenti Inizia così la lettera scritta e firmata dal professore Angelo Antonioni da Jenny Gaia Ficcadenti, referente del movimento La Scuola che Accoglie Lisetta Sperindei, consigliera comunale di Pesaro ed Eugenia Blazi, presidente del comitato Tecnologie Sicure Il loro è un chiaro riferimento tra gli altri al dirigente Riccardo Rossini che aveva sollecitato l'obbligo del certificato verde anche per gli alunni delle superiori per eliminare la DAD una proposta che aveva trovato consensi da parte di alcuni colleghi ma che trova contrari invece i firmatari di questa lettera Anche il preside dell'Istituto Classico Mamiani, Roberto Lisotti pur dichiarandosi d'accordo in teoria aveva rammentato l'obbligo di attenersi al rispetto della privacy e alla salvaguardia del principio che la scuola deve accogliere tutti Per quanto riguarda il Green Pass in sé per sé che è ottenibile anche tramite tampone è facilmente intuibile che difficilmente un ragazzo si sottoporrà a una, tra virgolette, tortura del genere in maniera continuativa e che chiaramente anche per le famiglie diventerebbe un notevole sborso economico quindi probabilmente tenderebbe poco dopo a propendere per la vaccinazione Questo discorso della vaccinazione in realtà per le fasce più giovani non ha molto senso perché le percentuali di letalità e di mortalità sono praticamente nulle al di sotto dei 40 anni Oltretutto, ha precisato il professore Incentivare l'obbligo del Green Pass contribuisce ulteriormente a creare discriminazione all'interno delle scuole e invece, ha proseguito, il messaggio che dovremmo trasmettere è ben diverso La scuola deve essere il luogo dell'inclusione della valorizzazione delle diversità e non certo della discriminazione sulla base del fatto che io abbia un certificato o meno Nella lettera inoltre vengono citati anche gli effetti collaterali e le vaccinazioni che continuano mediante richiami ancora non quantificati Per quanto riguarda i primi, Antonioni ha riferito diversi dati pubblicati sul sito Eudra Vigilance Si parla in Europa di circa 2 milioni e mezzo di reazioni avverse Ci sono anche altre tabelle consultabili una per esempio dell'OMS dove riporta le stesse cose che rispetto ad altri cosiddetti vaccini quest'ultimo ha dei numeri spaventosi Sulle vaccinazioni invece il docente ricorda che questo farmaco non impedisce la trasmissione del virus Faccio un esempio pratico Pochi giorni fa è uscito un articolo dell'assessore regionale Castelli che si è presentato in consiglio regionale pur leggermente febbricitante tranquillo perché ha il suo lascia passare è arrivato il riscontro del tampone mentre era in seduta morale tutti in quarantena quindi il discorso è anche che questa tessera da una falsa illusione quindi non contribuisce in realtà a combattere questa epidemia perché anzi mi autorizza a tenere dei comportamenti che non sono neanche corretti Ci sono anche degli articoli recenti pubblicati su riviste importanti Sì allora c'è uno studio che è stato fatto ormai diverse settimane fa dall'Istituto Spallanzani di Roma che era stato commissionato dal Ministero della Sanità dove affermava la stessa cosa cioè che anche chi si è vaccinato ha la carica virale può tranquillamente trasmetterla e pochi giorni fa è uscito uno studio dell'ANSET che è una rivista scientifica a livello internazionale una delle più prestigiose dove proprio raccomanda di non stigmatizzare coloro che hanno scelto di non farsi inoculare questo siero Si parla spesso però di una immunità di gregge da raggiungere mediante le vaccinazioni che cosa ne pensa e poi se ci sono anche altre strade Allora immunità di gregge come ultimamente sta uscendo fuori anche a livello ufficiale con un virus che muta in continuazione è praticamente un obiettivo irraggiungibile Altre strade esistono ci sono le terapie domiciliari ormai collaudate dall'inizio quasi della pandemia che hanno portato ottimi risultati e se vogliamo pensare ad altre strade visto che si parla sempre di problema di posti letto in terapia intensiva al di là delle percentuali che vengono date forse sarebbe il caso di migliorare la sanità aumentando questi posti letto creando dei reparti e ridando agli ospedali il giusto valore cosa che in questi anni invece non è stato fatto E dopo un controllo congiunto di questura Guardia di Finanza e Azurmar che è stato chiuso l'esercizio di somministrazione di alimenti situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Ancona l'area adibita al laboratorio è stata sequestrata per grave carenze igienico-sanitarie ed è stata rinvenuta della carne di provenienza incerta e senza tracciabilità inoltre è stato scoperto un lavoratore in nero e per questo è stata richiesta all'ispettorato del lavoro anche una maxisanzione da 1800 a 10.800 euro nel corso delle attività è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a interrompere l'erogazione del gas e dell'elettricità perché sono state riscontrate alcune manomissioni degli impianti che mettevano a rischio la sicurezza e la pubblica incolumità l'attività commerciale non potrà riaprire fino a quando il titolare un trentenne residente ad Ancona non provvederà a mettere tutto in regola e adesso l'aggiornamento sul coronavirus sono 361 i nuovi positivi al covid riscontrati nelle Marche nelle ultime 24 ore la provincia più colpita è quella di Ancona con 119 casi mentre a Pesolo Urbino i contagi sono 54 negli ospedali della regione i ricoveri sono 92 due in più rispetto a ieri aumenta lievemente il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre diminuisce quello dei degenti in semi-intensiva nell'ultima giornata non si sono verificati i decessi legati al virus e adesso parliamo di tariffe che a Fano sono tra le più alte della provincia ma anche della regione oggi la CISL ha lanciato un altro appello al sindaco Massimo Seri affinché si aiutino in particolare i pensionati e chi ha redditi bassi o medio-bassi diminuiscono sia i redditi che le pensioni ma crescono le tasse è questa la fotografia del comune di Fano scattata dalla CISL che ha illustrato i dati sull'IRPEF sulla Tari e sulla tariffa dell'acqua la più alta delle Marche aumenta la fascia dei redditi da 0,10 mila euro soprattutto dei pensionati a Fano abbiamo una pensione media di 879 euro e abbiamo anche molti anziani che vivono con l'assegno sociale di 440 euro il comune di Fano ha l'IRPEF comunale ha lo 0,80 su tutti i redditi non facendo distinzione tra i redditi bassi quindi tipo 0,10 mila o 0,15 mila euro e i redditi alti quindi pagano tutti lo 0,80 possiamo fare un confronto anche con altri comuni della provincia oppure delle Marche? noi abbiamo avuto per esempio due comuni qui del territorio Mondolfo e Queglialmetauro che hanno messo l'esenzione fino a 10 mila euro abbiamo il comune di Pesaro che ha una parte di esenzione fino a 9 mila euro poi non ha lo 0,80 ma ha un'aliquota IRPEF modulata a seconda dei redditi comune di Fossombrone quindi ci sono stati sindici che su questa scelta dell'IRPEF hanno messo delle risorse il sindaco di Fano ha proseguito Giovanelli potrebbe adottare una scelta più incisiva ad esempio introducendo un'esenzione fino a un reddito massimo di 15-18 mila euro perché molti lavoratori e pensionati sono al di sotto di questa fascia anche per l'acqua poi dal 2018 si è registrato un aumento una decisione presa sempre in autonomia dall'amministrazione comunale l'acqua di Fano assieme a Mondolfo e Monteporsi è la più cara di tutta la regione sia per il costo al metro cubo sia per la determinazione delle fasce quindi ha delle fasce fascia base fascia agevolata prima eccedenza seconda eccedenza con fasce di metri cubi molto bassi faccio un esempio la prima fascia è 0,20 metri cubi ad Ascoli Piceno la prima fascia è 0,50 metri cubi addirittura per un nucleo con tre persone 0,75 metri cubi ecco per cui è chiaro fascia alta tariffa alta fasce basse determinano che l'acqua Fano è la più cara di tutta la provincia e a un pensionato che ha 600 euro di pensione minima poter risparmiare anche 20 euro sulla tariffa dell'acqua è significativo ma non è finita qui perché anche la tassa sui rifiuti è alta e a seguito di una delibera nazionale della Rera il comune l'ha aumentata dal 2020 del 2,7% e Fano ha rivelato Giovanelli addirittura nell'assemblea dei sindaci aveva chiesto un aumento del 6% una richiesta poi non accolta si era arrivati infatti ad una mediazione per fare un esempio due persone in un appartamento di 80 metri quadri pagano 79 euro ogni quadrimestre 4 persone ben 118 euro abbiamo contestato questa scelta perché le pensioni per esempio non si sono rivalutate del 2,7% mentre la Tari si è rivalutata chiediamo al comune lo ribadiamo nuovamente che per esempio i bandi sulla riduzione delle tariffe come quello della Tari dobbiamo trovare un meccanismo di automatismo questo metodo ha proseguito il responsabile della CISL consentirebbe ai pensionati e a chi non ha dimestichezza con i mezzi informatici di ottenere comunque lo sconto in fattura in tanti infatti sono rimasti esclusi perché o non erano venuti a conoscenza o non erano riusciti a presentare la domanda se ciò non fosse possibile allora che si predisponga a una tariffa agevolata come già previsto in altri comuni nell'ultimo bando sono state messe 300.000 euro per le utenze non domestiche 100.000 per le utenze domestiche ma in realtà erano tutte risorse stanziate nel bando di giugno per le utenze domestiche quindi erano 500.000 euro per le utenze domestiche se fossero state erogate in maniera automatica sicuramente quei 500.000 euro sarebbero stati spesi sarebbero giunti magari sicuramente ai redditi bassi ai redditi medio-bassi pensionati lavoratori part-time lavoratori stagionali persone disoccupate Ancora cronaca per diversi mesi una donna residente a Senigallia è stata vittima di minacce e di violenze psicologiche che sono sfociate anche in episodi di aggressioni ma alla fine si è convinta a denunciare il suo stalker alla polizia la vittima si era innamorata di un quarantenne originario dell'est Europa molto geloso bastava che lei ricevesse qualche telefonata dagli amici o che non rispondesse alle chiamate del compagno per far scattare la sua ira dopo i comportamenti persecutori e le liti in cui l'uomo l'ha anche colpita al volto procurandole delle scoriazioni lo ha denunciato gli agenti del settore anticrimine hanno avviato le indagini nell'ambito del codice rosso e l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento cautelare con il quale è stato vetato all'uomo di avvicinarsi alla donna e a tutti i luoghi da lei frequentati e anche i carabinieri del comando provinciale di Pesero Urbino sono stati impegnati nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere un fenomeno aggravato anche dalla pandemia nella 2021 i militari hanno eseguito 12 arresti denunciato in stato di libertà 92 persone in relazione ad episodi di codice rosso domani 25 novembre la sede del comando generale dell'arma di Roma e di molte caserme saranno illuminate di arancione per ricordare a tutte le vittime che c'è un luogo sicuro a cui rivolgersi ma anche per dare coraggio a chi non ha ancora denunciato e per la prima volta sarà una donna a guidare Confindustria di Pesero e Urbino Alessandra Baronciani è stata eletta presidente per i prossimi quattro anni durante l'assemblea pubblica che ha seguito per noi Angelica Panzieri sono state premiate anche 19 aziende del territorio e proprio per questo cercherò di essere un presidente di tutti e per tutti Passaggio di testimone per la Confindustria di Pesero e Urbino lascia Mauro Papalini e subentra per la prima volta nella storia una donna al comando Alessandra Baronciani alla guida dell'associazione per i prossimi quattro anni Un incarico importante proprio anche perché in quanto donna è la prima volta mi sento una grande responsabilità però devo dire che l'accoglienza è stata quasi un'anime una votazione quasi un'animità un'ottima squadra gli obiettivi per il futuro sicuramente è quello di dialogare con le istituzioni e dialogare con il nostro territorio con tutte le imprese che siano piccole e medie dall'entroterra alla costa vogliamo collaborare con tutti ascoltarli tutti abbiamo già preso in considerazione tutti i suggerimenti che gli associati hanno dato alla commissione di designazione speriamo di lavorare bene e dobbiamo cominciare grande emozione ieri al teatro sperimentale di Pesaro dove in occasione dell'assemblea pubblica degli industriali dal titolo coesione tra imprese e territorio organizzata da Biper Banca e Umana sono stati premiate 19 aziende che hanno raggiunto l'anzianità di iscrizione all'associazione in prima fila c'era anche il presidente di Confindustria Nazionale Carlo Bonomi arrivato da Roma insieme al vice presidente Alberto Marenghi poi il governatore della regione Marche Francesco Acquaroli che ha ricordato la centralità e il ruolo dell'impresa il sindaco Matteo Ricci e tra gli altri il presidente della provincia Giuseppe Paolini quello della camera di commercio Gino Sabatini e il rettore di Urbino Calcagnini tra i temi al centro dell'assemblea quello della difficoltà di fare impresa e dei tempi lunghi della burocrazia imprese e quelle del territorio che costituiscono però un valore aggiunto perché hanno saputo impegnarsi per la ripresa sanitaria sociale ed economica in un periodo non facile segnato dalla pandemia l'impresa è parte integrante di un territorio sono sempre stato convinto che si vince si vince insieme non può esserci un'impresa senza un territorio vicino all'impresa pertanto ecco questo io credo sia fondamentale per per crescere quando si cresce tutti è fondamentale per crescere insomma la presidente ne ho eletta è stata la mia vicepresidente pertanto per quattro anni abbiamo fatto un percorso insieme abbiamo condiviso le cose fatte e so che farà un ottimo lavoro premiazione è per gli anni di fedeltà all'interno della nostra associazione e comunque premi per quello che il mondo imprenditoriale ha fatto sono già stati dati in altre occasioni abbiamo un tessuto imprenditoriale molto importante molto attivo molto sensibile è stato molto sensibile nei due anni di pandemia siamo stati molto vicini a tutte le strutture sanitarie e questo fa capire che il cuore dell'imprenditore è proprio nel territorio è stato poi il presidente Carlo Bonomi a ripercorrere tutti i temi che il paese ha sul tavolo partendo proprio dalla riforma del fisco come Confindustria noi abbiamo proposto un taglio del cuno contributivo molto forte 8 miliardi per noi sono pochi ne servono perlomeno 13 se vogliamo dare un effetto molto forte mettere soldi in tasca agli italiani e soprattutto abbassare il costo del lavoro che è l'unica componente su cui possiamo lavorare e poi il capitolo inflazione ci preoccupa molto perché l'inflazione sta raggiungendo dei livelli pericolosi ovviamente questo vuol dire un rincaro dei prezzi molto importante e temiamo anche un'inflazione salariale se la sommiamo al fatto che stanno aumentando il costo delle materie prime i costi energetici capite che le nostre imprese vengono messe in una situazione di grave difficoltà dopo le tante sollecitazioni l'ufficio postale di Cartoceto sarà interessato da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico a partire da lunedì 29 novembre l'ufficio infatti sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45 e torniamo a Pesaro perché dopo il nostro servizio su Galleria Roma l'assessore Enzo Belloni risponde ai commercianti che da anni attendono un intervento sulla pavimentazione la pavimentazione di Galleria Roma si farà i commercianti non devono temere assicura l'assessore alle opere pubbliche Enzo Belloni che attraverso i nostri microfoni risponde alle richieste avanzate dagli stessi negozianti i quali attendono l'intervento di riqualificazione della Galleria ormai da anni sui tempi però non ci sono ancora certezze volevo precisare che come amministrazione comunale abbiamo impegnato circa 240.000 euro per il progetto di riqualificazione dell'area intorno circostante quindi via Curiel via Contramine e via Passeri è un impegno che ci eravamo presi anche su Galleria Roma la situazione strutturale della parte che sta tra la pavimentazione e il garage sotto la stiamo valutando assieme a un tecnico che ha seguito anche i lavori dei condomini di Galleria Roma qualche mese fa avevamo incontrato anche gli amministratori di condominio intendiamo comunque andare avanti e onorare l'impegno preso è chiaro che rispetto alla tenuta della soletta che divide la pavimentazione dai garage bisogna fare un'attenta valutazione tecnica perché ci dicono che la pavimentazione della piazza ha un'inclinazione di circa 6 cm dall'estremità al centro e quindi bisogna avere particolare cura e attenzione nello scegliere il materiale da mettere sulla piastra si era pensato sulla galleria si era pensato all'inizio di utilizzare una sorta di pavimentazione come abbiamo utilizzato in via San Francesco però dalle prime analisi sembra che bisogna passare ad un altro materiale a meno che non si voglia rinforzare dal punto di vista strutturale la parte sottostante quindi la zona dei garage sul carnevale 2022 invece verrà presa una decisione nel giro di pochi giorni ma ci sono tante incognite che rischiano di provocare delle ripercussioni sulla manifestazione su tutti coloro che ci lavorano è quanto ha detto la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli dopo l'incontro di lunedì sera con i carristi e l'assessore Etienne Lucarelli per confrontarsi sul futuro dell'evento del prossimo febbraio dobbiamo fare i conti ha spiegato Gianmarioli con l'incertezza provocata dal covid che ha delle importanti ripercussioni sul bilancio di previsione le spese fisse sono ingenti come possiamo chiedere ai carristi di lavorare in queste condizioni tra le altre cose ha proseguito questo consiglio è al suo ultimo anno e non vogliamo lasciare debiti e criticità a chi verrà dopo di noi comunque ha concluso la presidente faremo il possibile dal villaggio del gusto al nuovo scenario del pincio con la casa di babbo natale sono diverse le novità del natale più a Fano che prende il via sabato sera con l'accensione della beta in piazza 20 settembre lo spettacolo però sarà visibile soltanto sui social e su Fano TV il servizio di Filippo Pucci la città di Fano è pronta per essere avvolta dalla magia natalizia in occasione del Natale più 2021 tante le iniziative in programma come la riconferma dei musicisti dai balconi lungo il centro storico il coro gospel a teatro il palio delle contrade con giochi per bambini e le attrazioni come la pista di ghiaccio i mercatini natalizi il presepe di San Marco e le proiezioni videomapping sulla facciata del teatro della fortuna primo appuntamento sabato 27 novembre con l'illuminazione dell'albero donato dalla famiglia di Monteporzio simbolo di questa edizione fino al 6 gennaio prossimo saranno i bambini e le bambine della città di Fano ad accendere l'albero sarà il piccolo principe che quest'estate ha portato l'immagine di Fano in tutta Italia ad accendere appunto l'albero di Natale con inaugurazione ovviamente che sarà realizzata in tutta sicurezza il pubblico sarà controllato quindi in piazza ci sarà soltanto la presenza dei bambini la piazza sarà chiusa ma tutti potranno vedere grazie alle telecamere di Fano TV e grazie alla diretta social potrà vedere lo spettacolo di inaugurazione quest'anno sarà il Pincio ad ospitare il maggior numero di eventi come il villaggio del gusto quattro maestri pasticceri della città daranno prova del proprio talento in maniera creativa e artigianale esibendosi in cooking show insieme a laboratori dedicati ai bambini nello specifico abbiamo domenica 28 il laboratorio realizzato dalla pasticceria Arturo domenica 5 dalla pasticceria le terrazze domenica 12 dalla pasticceria Guerrino e domenica 19 dalla pasticceria Cavazzoni ma le novità non finiscono qui per la zona riqualificata del Pincio oltre ad ospitare il presepe di dimensioni reali realizzate dai maestri carristi di Fano da quest'anno verrà allestita una casa particolare è la casa di Babbo Natale dove tutti i bambini di Fano e oltre potranno parlare e consegnare le letterine Babbo Natale quest'anno con la neve la chicca sarà la neve che tutti i weekend venerdì sabato domenica alle 16.30 alle 20 nevicherà sulla casetta di Babbo Natale nella zona Pincio perciò un augurio che questo Natale sia ancora un Natale più e tanti bambini vogliamo vedere al Pincio sotto la neve l'evento è reso possibile grazie al Comune e alla Proloco cittadina oltre all'impegno del Consorzio Quadra Holding Nuova Realtà nel territorio fanese che ha creduto nell'evento abbiamo voluto dare un contributo alla città di Fano alle famiglie di Fano famiglie che hanno creduto in noi e stanno credendo in noi nelle nostre imprese consorziate e quindi è un anche un modo per di riconoscenza un moto di riconoscenza di restituire qualcosa in relazione alla fiducia e a ciò che Fano ha fatto per noi e noi come realtà fanese ne ho costituita e abbiamo voluto ridare qualcosa alla città e domenica torna a sapori aromi d'autunno la manifestazione che dopo un anno di stop a causa della pandemia riporta il Codma di Fano numerosi eventi tra arte gusto ma anche sport e salute Letizia Marchionni dopo un anno di stop a causa del Covid torna al Codma di Fano sapori aromi d'autunno il salotto del gusto evento patrocinato dalla regione Marche che coniuga sapore arte e cibo e che ospita circa 80 produttori e commerciali la cerimonia del taglio del nastro avvenuta lo scorso 21 novembre con le autorità locali Giorgio Sorcinelli presidente dei viandanti dei sapori associazione che organizza la manifestazione e il presidente di Olea Renzo Ceccacci ha dato il via ufficiale alla 33esima edizione di sapori e aromi d'autunno inaugurazione poi proseguita con l'esibizione della banda cittadina e l'intervento del coro una scuola tra le note della primaria Tombari di Bellotti a seguire sono stati consegnati i riconoscimenti della 29esima edizione del premio Marche Nostre a sei enti del territorio che si sono distinti nel campo della produzione e valorizzazione agroalimentare marchigiana la fiera ha portato al Codma di Fano una fucina di eventi che vanno da mostre come quella micologica a seminari degustazioni aperte al pubblico sulle migliori produzioni locali passando anche per momenti dedicati alla salute alla solidarietà e tanto altro c'era il desiderio e la voglia di tornare alla normalità ovviamente in sicurezza ha affermato il sindaco di Fano Massimo Seri Aromi e Sapori in qualche modo conclude un percorso della valorizzazione dei nostri prodotti con le fiere in giro del territorio ci sono state quelle del tartufo quello dell'olio e con Fano qui al Codma si radunono un po' tutti i produttori del nostro territorio con tutte le eccellenze quindi è un bel modo per promuovere un bel modo per così vivere il nostro autunno con tutte le nostre eccellenze io come rappresentante della presidenza del consiglio regionale sono tra coloro che hanno voluto patrocinare Sapori Aromi perché non inizia l'autunno senza l'inaugurazione da 33 anni di Sapori Aromi d'autunno è un'eccellenza non solo per Fano ma per tutta la nostra regione avere qua al Codma questa manifestazione in cui crediamo e vogliamo continuare a sostenere domenica 28 novembre seconda giornata della manifestazione sarà poi la volta della settima edizione della camminata del gusto e del cuore e dell'iniziativa Amico Cuore ambulatorio tenda con test medici gratuiti a cura della fondazione lotta all'infarto di Pesaro e Fano Cuore è possibile trovare il programma completo sul sito internet www.saporieromi.info e sulla pagina facebook dedicata i produttori ci sono i sapori ci sono l'autunno c'è quindi siamo al completo quindi aspettiamo tutti anche domenica prossima alla manifestazione che si terrà qui al Codma siamo qui ad accogliervi con tutto quello che c'è di più buono e di migliore dal punto di vista gastronomico e della regione Marche e non solo perché avremo anche produttori dall'Umbria produttori dalla Puglia